Quindi 3, 2, 1, BOOM! MAMMMA MIA! MAMMMA MIA! MAMMMA MIA! La combo definitiva! Se riesci a lasciare il like entro 5 secondi troverai un nuovo brawler su Brawl Stars Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero per te ti abbia piaciuto il like in tempo se vuoi trovare un nuovo brawler su Brawl Stars Ragazzi siamo tornati su Mushix7 il mio settimo account perché oggi andremo alla ricerca di un nuovo brawler Ebbene sì perché guardate qui innanzitutto non ho ancora shoppato il Brawl Pass quindi ci apriremo le case del Brawl Pass ma poi se non dovessero bastare guardate qui c'è l'offerta del livello 5 che sbloccheremo facendo una sola partita e a prescindere da tutte le offerte e tutte le case del Brawl Pass Ragazzi nel negozio c'è un'offerta che vede Tara a 179 gemme ma comunque anche una mega cassa qui e un'altra mega cassa qui tutte in offerta quindi ragazzi oggi pacchettiamo! Ovviamente però se non sei iscritto al canale iscriviti adesso e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti quanti i nuovi video che escono ogni giorno sul canale e se sei già iscritto non vedo perché non dovresti seguirmi anche qui su Instagram o TikTok i link sono in descrizione ci tengo soprattutto a Instagram perché siamo quasi a 20k quindi signori per una rapida vittoria metterò Maxine perché appunto Maxine è veloce quindi rapida vittoria e dopo la vittoria avremo anche la nuova offerta così potremo aprirci l'offerta e credo che ci daranno anche delle gemettine anche se credo che quelle gemettine non basteranno per acquistare il Brawl Pass però fa niente, fa niente c'è comunque un po' di gemettine sono meglio di niente, no? Quindi, signorina Maxine qua dobbiamo essere molto veloci e dobbiamo essere molto attenti tipo a questa qui ok, poteva killarmi non mi ha killato per fortuna signori, per fortuna ma qua c'è un pocio il pocio beccati un pocio dei miei colpi in the face meno male che pocio comunque da vicino non fa chissà quanto danno quindi è un po' più safe andarli contro perfetto, perfetto io velocizzo anche la mia compagna prendo l'altra gemettina e qua faccio fuori questo il primo la mia cofaia ci è morta in una maniera che ancora non ho capito come ha fatto a morirci nel frattempo butto giù quello il primo qui c'è un pocio che mi fa un pocio di paura no, 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 no ok niente da fare, niente da fare poteva curare la compagna non l'ha curata prendo io le gemme voglio io le gemme voglio io le gemme ti velocizzo zia ti velocizzo per una veloce vittoria ok questa ragazzi è la vittoria che ci porterà al livello 5 in questo settimo account per quindi farci sbloccare la nuovissima offerta livello 5 ok velocizzo tutti e tre così a caso ottimo livello 5 signori vabbè vabbè diciamo che è una cosa molto easy non c'è il tipo da gasarsi tantissimo però ragazzi vediamo se troviamo un nuovo brawler negozio ecco no sono 30 gemme non ce la faccio mai nella vita a comprare il brawl pass nuovo però ragazzi meglio di niente io inizio proprio da questa offerta gemme venite a me ma soprattutto mega cassa viene a me e adesso è il momento del capellino del king degli spacchettamenti è il momento ragazzi datemi la forza con un bel like per aprire questa cassa e trovare un bel 7 non sei voglio il 7 addirittura 3 2 1 vamanos 6 altro che 7 8 9 118 no 5 un 5 maledettissimo signori perché maledetto perché appunto non ci dà un nuovo brawler ma noi non fa niente ragazzi noi oggi spacchettiamo un bel po' di conseguenza non ce rendiamo mica signori e dopo una bellissima e rinfrescante ricarica di gemme signori vado ad acquistare Aika sul mio settimo account il brawl pass stagione 2 andiamo in 3 2 1 boom siamo fino al grado 12 soglia 12 ragazzi come si chiamano soglie gradini fatemi sapere livelli non lo so davvero non lo so come li hanno chiamati si è rifatto però che anche qui sbloccheremo un nuovo brawler del cammino dei trofei senza avere minimamente le coppe necessarie infatti signori con la skin super ranger si sbloccherà anche Brock che è un brawler che si sblocca le mille coppe quindi signori primo tecnicamente nuovo brawler ossia Brock Brock che sbrocca comunque ragazzi c'è comunque super ranger è una delle skin più belle che hanno cacciato finora probabilmente andiamo avanti andiamo avanti signori cassa enorme e vi ricordo se ha meno di 40 di oro noi abbiamo un nuovo brawler quindi quindi 55 ecco manco a farlo apposta più di 40 di oro ottimo ottimo signori ottimo purtroppo questa teoria si è rivelata vera eh ragazzi quindi quando vediamo più oro purtroppo il nostro morale scende è così che funziona è proprio così che funziona purtroppo io qui non so manco quanti brawler ho ho 19 brawler su 38 quindi mi mancano ah due epici ultimitici leggendari il cromatico oggi le vedo malissimo altra cassa enorme signori abbiamo un bel po' da spacchettare 74 di euro quindi 0 nuovi brawler purtroppo per noi va bene altra piccola cassettina voglio il brawler nella cassa gratis ragazzi lo voglio lo desidero lo bramo ecco infatti quando io bramo un nuovo brawler esce pam che proprio porta sfiga proprio porta sfiga pam ragazzi voi continuate a dire ma dai lascia stare quella povera pam ma ragazzi c'è più sfigata di pam non c'è niente non c'è niente vabbè 98 di euro c'è appena esce pam signori loro si 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 duplica si quadruplica diventa io dovrei trovare 40 e meno e invece diventa 98 proprio a dire il brawler te lo sogni tant'è che ci sono solamente due skip proprio a dire c'è ma dove vai dove vai se la pam troverai cioè proprio c'è anche rima ragazzi 53 di euro ci avviciniamo ma non è abbastanza per trovare un brawler vi ricordo mitico leggendario o cromatico cioè non è che ci mancano chissà qua no anche gli epic no 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 raga 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 attenzione attenzione i brawler epic possono essere trovati perché comunque non sono così tanto difficili da spacchettare io credo almeno in quelli in quelli io ci credo signori potremmo farcela dobbiamo sperare soprattutto in quelli vabbè però e dai il doppio dell'ora necessario per trovare un nuovo brawler non farmi arrabbiare non farmi arrabbiare vabbè che oggi tanto a prescindere un brawler mitico se non troviamo nulla ce lo sblocchiamo perché possiamo comprare tara in quel negozio però ragazzi cioè perché devo sforzarmi così tanto andiamo in una con una mega cassa ragazzi io qui ci credo tantissimi in questa cassa in 3 2 1 vamonos si vamonos a comprare un'altra cassa perché questa qua non c'ha niente vabbè vabbè il cappellino lo sto utilizzando un po' troppo probabilmente si sta scaricando signori dovete ricaricarlo con i like ragazzi dobbiamo superare 10.000 like a questo video per forza il cappellino non funziona più e non posso dare la mia fortuna a voi perché c'è ragazzi che non sono fortunato io figuriamoci se posso darla a voi ma tranquilli tranquilli che oggi il nuovo brawler prima o poi uscirà uscirà fidatevi fidatevi uscirà abbiamo ancora un po' di casse più le casse quelle lì in offerta e voglia spacchettare signori miei casse enorme niente da fare due skip molto brutti su musics 8 a questo punto avevamo sbloccato già tre brawler tre ragazzi se non l'avete visto andatelo a vedere perché è uscito quella volta un video iper stram mega super epico leggendario a livelli allucinanti c'è una botta di fortuna mai vista nella storia però ragazzi attenzione attenzione niente 59 di oro cioè ormai aprire le casse enormi cioè non ha più quel gusto dei tre skip che te li spacchetti fino alla fine perché vedi loro e sai subito se c'è o non c'è no dovrebbero rimuoverla questa cosa ragazzi perché non non mi piace non mi dà la soddisfazione necessaria per per appunto spacchettare comunque c'è qui una mega cassa una cassa enorme e una cassa brawl ragazzi io le aprirò al contrario chissà che non si bug un pochettino brawl stars prima la cassettina questa stupida niente da fare 22 di oro e c'è il brawler iris uno degli ultimi usciti poi cassa enorme e infine mega cassa cassa enorme andiamo ragazzi vi ricordo vi ricordo loro loro guardiamo loro io chiudo gli occhi ho gli occhi chiusi ragazzi non ho ancora visto magari voi potete vedere io no apro gli occhi 62 ecco che ci spero a fare che ci spero a fare ormai signori nita e infine barrel per l'ultimo cioè per la mega cassa devo potenziarmi ancora di più con gli occhialetti questi fortunati a cuoricino già lo sapete che questa è una combo micidiale per brawl stars quindi like perché sono arrivato di nuovo a questa combo micidiale brawl stars mega cassa dammi il nuovo brawler 3 2 1 mani al cielo manco se si per tirare una jakey dama su freezer quindi 3 2 1 boom mamma mia mamma mia mamma mia la combo definitiva la combo definitiva 7 7 7 ragazzi 7 oh mio dio oh mio dio la combo definitiva gli occhialetti fortunati più il capo e le king guardatelo il capo e le king più gli occhialetti assieme fanno un bel 7 7 skip ma vieni cioè raga nell'ultima cassa disponibile spacchettiamo un bel 7 skip mamma mia ho la pelle duca ragazzi questa non me l'aspettavo la svolta del video signori apriamoci questi 7 skip mamma mia cioè ragazzi questo cappellino è intriso della fortuna generata a tutti i vostri like e tutto il vostro seguito cioè se mi seguite dovete per forza essere fortunati anche voi infatti ogni volta leggo moshix dopo che mi sono iscritto ho trovato mettere il nome di brawler che nessuno trova mai ma ragazzi cioè di che stiamo parlando facchettiamoci questa cassa c'è ancora un 6 dopo uno skip che bello che bello signori che bello che benessere soprattutto perché mi mancano solamente epici, mitici e leggendari anche se moshix7 non so se ho alzato qualcosa spero nel doppio brawler nella cassa ragazzi ok ok il doppio skip luminoso c'è ragazzi lui c'è speriamo esserci anche noi non so se ho qualche brawler al livello 7 non mi ricordo spero due skip almeno un nuovo brawler c'è andiamo e adesso vedo un nuovo brawler epico si andiamo andiamo ragazzi andiamo quindi ragazzi c'è un altro brawler qui c'è un altro brawler che cos'è tre mi alzo i piedi tre due uno oh mio Dio doppio brawler di cui un leggendario oh mio Dio oh mio Dio ragazzi oh mio Dio oh mio Dio ragazzi ma di che cosa stiamo parlando che cassa è questa che cassa è questa oh mio Dio sente skip blue repico più leggendario con il nuovo corvo ragazzi questo è il nuovo corvo quanto è bello signori trovare il nuovo corvo uno stile pazzesco non ci sto credendo quanto sono fortunato la combo definitiva signori guardiamo assieme Bea e corvo nella stessa cassettina oh mio Dio oh ragazzi mamma mia prima o poi ci morirò con queste reaction troppo 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 esagerate ovviamente qua si va di screenshot ragazzi per forza per forza non voglio più cliccare per far uscire dallo schermo lo voglio tutta la vita qui perché doppio brawler di cui un leggendario qui è qui va 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 non ho parole questa non era una mega casa questa è la cassa della vita ragazzi la cassa della vita c'è pure corvo dopo il remodel troppo troppo bello va bene va bene sono cosette a uscire perché devo chiudere il video signori anzi c'ho pure i punti di energia che vi do al corvettino quanto è bello quanto è bello il corvettino signori bababia signori se questo video vi è piaciuto e non può non può non piacervi dato questo finale iper inaspettato ragazzi c'ho il cuore che mi batte a 10.000 non 10.000 like iscrizione instagram tiktok e ne finiscono magari in un prossimo video ciao